La legge è uguale per tutti, anche per i magistrati fiorentini. Hanno violato la legge? Ne devono rispondere. La pena è da uno a quattro anni, saranno dimagistrati per decidere se quello che loro hanno fatto è corretto o no. E come dire, allora lo dico alla francese, ce n'è qu'un début, non è che l'inizio, perché nelle prossime settimane la strategia difensiva che riguarda solo me, della quale mi assumo tutta la responsabilità e sulla quale non voglio minimamente mettere in difficoltà a nessun altro, questa strategia difensiva io la faccio combattendo punto per punto, articolo per articolo, con le armi della giustizia. Io non voglio scappare dalla giustizia, io chiedo giustizia e la otterremo. No, peraltro voglio segnalarti che c'è stata ovviamente subito l'alzata di scuti del sindacato dei magistrati, magistratura indipendente, dicendo che questi sono attacchi ad personam, mentre loro con le inchieste perseguono dei reati. Scusate. È tutto molto divertente nel senso che... No, ma scusate, ho letto anche la NM, dice, intollerabile screditare i PM sul piano personale. Esatto. Al metto del fatto che la mia vita è stata pubblicata, in pasto, sui giornali, con violazione del segreto bancario, del segreto istruttorio, della legge sulla privacy e delle guarantiche costituzionali nel silenzio della NM e di tutti gli altri. Cioè la mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare di cui io non parlo perché sono una persona che fa vedere il proprio lato forte. Ma mi auguro che nessuno, nemmeno il mio peggior nemico, viva quello che ha vissuto la mia famiglia e il sottoscritto. Va bene? Grazie a tutti.